Grazie Presidente, sono orgoglioso di vedere la seduta in quello scranno, la ringrazio, le auguro buon lavoro. Così come sono orgoglioso, oggi inizia un percorso dove finalmente qualcuno la smetterà di accusarci degli effetti creati dalle cause, dalle loro cause, del disastro che ci hanno lasciato in eredità. Ed è per questo che oggi sono venuti qua a raccontare una quantità di falsi che io rispetto a questo argomento non ho mai sentito da quando siamo in quest'aula. Oggi ci viene detto che questi 227 bus sono una scelta sbagliata perché non c'è il full service, loro li avevano presi con il full service. No ragazzi, qui non solo c'è il full service, ma questi bus li stiamo pagando per fare in modo di non lasciare un centesimo di debito a chi verrà dopo esattamente il contrario di quello che avete fatto voi perché molto semplicemente li avete comprati a buffo e se oggi noi abbiamo un miliardo e quattro di debito solo in ATAC è perché c'è anche questa di ragione, per cui non si capisce dove li avete spesi quei soldi. Che ci avete fatto? Dove stanno? Ma anche i 13 miliardi del debito commissariale. Io nell'ultima votazione in bilancio a dicembre vi ho portato un documento in cui i dieci anni prima della nostra consigliatura nel titolo secondo c'erano due miliardi all'anno di investimenti, due miliardi all'anno di investimenti per ogni anno, anzi per sette annualità su dieci. Noi quest'anno a dicembre abbiamo votato un triennale mettendo un miliardo e due, si ricordo bene. Io vorrei capire anche lì con questi due miliardi all'anno che voi ce l'avevate, ma che ci avete fatto? Dove stanno questi soldi? Dove li avete messi? E ci venite a rinfacciare a noi che stiamo facendo in modo come un buon padre di famiglia, una buonissima madre che c'è a cura dei suoi figli, di chi verrà dopo, di non lasciargli neanche un centesimo di problema, perché questo fa una persona che ha a cuore il territorio in cui vive in maniera condivisa, in una comunità insieme agli altri, non che tu fai in modo di creare i presupposti per cui crei delle aziende dove ci metti dentro della gente che sa solo rubare. E ci vedi a rinfacciare a noi questo passaggio oggi dove veramente oggi stiamo cominciando a certificare il risanamento nei fatti concreti di un percorso che è durato tre anni rispetto a un concordato che è stato necessario avviare perché quando la Bolverini governava in regione non ha pagato 220 milioni di contratto collettivo nazionale che doveva pagare la regione per quello che si è avviato un contenzioso. Ci sono state due sentenze, aprile del 2017 e agosto del 2017, e l'azienda si è trovata in patrimonio a un eletto negativo. L'unica scelta era di tentare di fare questa operazione e ci siamo riusciti, altrimenti avrebbero portato i libri in tribunale e oggi voi che state lì a rinfacciarci che l'autobus non passa alla fermata, ma cosa gli andavate a dire ai cittadini che eravate voi i responsabili di quella roba? Noi oggi siamo presi la responsabilità. Un rischio che non si è preso mai nessuno. Perché ci rinfacciano anche un'ideologia rispetto al fatto che noi vogliamo mantenere la pubblica, questa azienda come le altre, ma perché abbiamo sempre detto perché dobbiamo pagare il profitto a un privato se basta mettere dei buoni manager. La differenza sta lì. Magari non ci siamo ancora riusciti completamente, ma il percorso è questo. Invece di dire, vabbè, sì, voi 5 stelle, siete tanto ideologici, insomma, avete fatto tanti errori, e lo riconosciamo, alcuni errori li abbiamo fatti pure noi, non è che siamo dei maghi, eh? Però almeno in questo, insomma, stanno arrivati 227 bus e il problema adesso è legato all'uso frutto gratuito, non gratuito. Semplicemente è successo una cosa molto banale, l'avete fatto voi, è iniziato voi con i costi standard, il contratto di servizio paghiamo 3,38 euro al chilometro, dentro quei 3,38 euro ci stanno già i costi per la manutenzione, già pagati, adesso noi gli diamo 227 autobus pagati dal comune col full service e quindi chiaramente qualcuno dei nostri tecnici, ma di tutti gli avvocati, sono posti il proprietario, magari gli hanno pagato due volte la manutenzione, è chiaro che non si può fare, è una cosa nuova, c'è voluta qualche settimana per farlo. Consigliere, mi scusi se la interrompo, si avvicina al microfono perché altrimenti non si capisce e si rivolga alla presidenza. Grazie. Sì, grazie presidente, ma ci sono anche i colleghi che si rivolgono sempre all'aula, qua non gli dice mai niente, nessuno. Io ho necessità di comunicare alla cittadinanza, hanno detto prima che questa è la verità, ma quale verità? State continuando a raccontare soltanto falsità, così non se ne esce, andate nei territori e continuate a raccontare queste falsità, ma veramente voi per carità, volete anche vincere le prossime elezioni? Io non so se ci riuscirete, ma state continuando a condannarla a questa città, perché se i cittadini continuano a ricevere questo tipo di informazioni, ma dove pensate di portarla questa città? Dove? Allora, forse è il caso che quando facciamo queste aule, magari io invito la mia maggioranza, ma manco li facciamo più questi interventi nostri, tanto non servono a niente, qualsiasi cosa diciamo, un universo loro parallelo, si inventano di tutto, evitiamo, perché io pure mi accoro, perché ci tengo a questo comune, a questo territorio e quando sento queste cose mi fa male, come fa male a ogni cittadino vedere che i servizi stentano a riprendere, perché evidentemente ci vuole tempo per rimettere in piedi queste cose, non stiamo parlando che tu hai preso un'attività di due metri quadri e la rimessa in piedi, stiamo a parlare della più grande azienda pubblica di trasporto in Europa, non è una cosa che si fa in pochi mesi, io vi ringrazio del sostegno che ci date ogni volta quando siamo in aula, grazie, siete molto gentili.